Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video, buona domenica oggi farò un video, una pulizia appunto dopo pranzo della nostra domenica una pulizia tranquilla, una pulizia con il caldo, perché oggi è veramente caldo 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 quindi io vi lascio al video, mi raccomando se ti fa piacere iscriviti al canale lasciami un commentino e lasciami tanti like per sostenermi, buona visione, ci vediamo dopo D'accordo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.